Iscriviti al canale, attiva la campanellina e iniziamo il video di oggi dove parlo di quegli italiani che nei vari social media scrivono ma se devi prendere 1200 euro in Germania tanto vale che te ne stai in Italia perché nel bel paese prenderesti le stesse cifre e questa affermazione è molto falsa ve lo spiego subito perché mentre in Deutschland prendere stipendi di 1200-1300 euro al mese netti è di una facilità estrema trovare lavoretti casual che vi pagano coteste cifre in Germania è molto facile in Italia è molto più difficile trovare anche un lavoretto che ti paga 1200 euro in Italia è diventata un'impresa assai ardua purtroppo quando sono in Italia e fortunatamente ci torno spesso per visitare la mia famiglia che ci sto tanto bene con loro visitare i miei amici, i paesaggi bellissimi, il cibo sono lì e magari mi viene in mente di fare domanda di lavoro per una delle offerte che trovo su internet e ahimè nel bel paese ricevo sempre le solite risposte tipo offerte di lavorare 6 giorni a settimana 8 ore al giorno per stipendi da 900-1000 euro al mese neanche ci arrivano a 1200-1300 euro poi ti devi ritenere fortunato se la ricevi una risposta perché il più delle volte ti ignorano dunque nel bel paese è già arduo trovare un lavoro e se ne trovi uno magari ti pagano 1000 euro al mese per 6 giorni a settimana 8 ore al giorno in Germania, come già dissi, in un video per esempio che vi posto qui sopra trovare questi lavoretti casual è di una facilità aberrante cioè tu vai su internet e di offerte di lavoro ce ne sono tantissimissimissimissime non prenderete stipendi della madonna ma a fine mese decentemente ci arrivate per esempio nell'ultimo video vi spiegai come fare domanda per questa compagnia che si chiama Flash & Post e andatevi a vedere il video questa compagnia vi viene super incontro vi chiede quanti giorni a settimana volete lavorare quanti ore al giorno che tipologia di contratto volete in quale area della città specifica vi piacerebbe lavorare vi vengono super incontro e purtroppo realtà del genere in Italia non l'ho mai vista ahimè mi piacerebbe vederle anche in Italia ma purtroppo ancora non se ne vedono dunque ragazzi non ascoltate costoro che vi dicono che se prendete 1200 euro in Germania vi conviene restare in Italia perché prendereste le stesse cifre no purtroppo stando ai dati di oggi anche solo avere un lavoro in Italia devi ritenerti fortunatissimo ed infatti poi nel bel paese la gente c'è questa cultura del tenersi stretto un lavoro ma c'è un perché il perché è che se lo perdi trovarne un altro è un'impresa molto ardua mentre in Germania trovare lavoretti casual ripeto che pagano 1200-1300 euro netti al mese è di una facilità estrema vi metto un altro video qua sopra dove vi faccio vedere quanto è facile è facile durante questi periodi di restrizioni immaginate quando un giorno speriamo riaprirà tutto per questo video è tutto se ti è piaciuto dai un like oppure dai un pollice all'ingiù commenta qui sotto fammi sapere cosa ne pensi dell'argomento del video di oggi come ho detto all'inizio iscriviti al canale ed attiva la campanellina ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti